buongiorno a tutti benvenuti sul mio canale oggi il 20 di maggio andiamo a fare come di consuetudine la nostra analisi sulle candele weekly andiamo a vedere che cosa è successo nel mercato partiamo subito con guardando il performance eccole qua andiamo su vedere le performance allora portofoglio a future eccolo qua e adesso andiamo a vedere le performance della settimana come potete vedere il gas ha fatto un 14 per cento diciamo quasi 15 per cento il cotone un 7 6 l'orengius ha fatto un 6 86 vedete di 678 la gasolina 6 e 16 il caffè 4 29 il Nikkei 4 26 il Nasdaq 3 32 il cacao 285 poi vedete che la carna di bovina 267 il petrolio 266 il riscaldamento 265 DAX 239 l'Eurostom 207 crude oil 191 l'SP 500 1 e 46 vedete che nelle negative c'è stata l'avena 455 la soia ha perso 473 il wet 4 76 5 12 con la soia bin 5 47 e vedete che la canola ha perso un 8 e 2 e anche il riso ha perso un 7 per cento andiamo adesso a vedere il calendario calendario dove questa settimana ci sarà come dato importante i tassi interesse della nuova zelata partiamo dall'euro dollaro l'euro dollaro vi abbiamo detto che il ciclo che era partito dal mese di settembre dove aveva avuto una grande forza siamo adesso nel G2 e avevo detto che qua eravamo ancora in una fase siamo ancora in una fase long però vedete che non riesce per il momento a rompere quell'1 11 900 1 12 diciamo e vedete che in questo momento siamo alla candela numero 10 9 questo potrebbe essere adesso il minimo che farà al mezzo ci potrebbe anche arrivare a 1 0 qui a 1 e 0 7 staremo a vedere cosa succede se terza candela negativa incertezza vedete che no a confronto della prima parte del ciclo dove c'è stata questa grande forza vedete che adesso siamo in una fase veramente deboli non c'è forse la media anche 2 200 vuole vedere se riuscirà a romperla la sterlina la sterlina come potete vedere lei è diverso dall'euro dollaro vedete che avevo detto che poteva andare a prendere questa media 200 vedete che anche questa settimana non si è mosso seconda candela negativa una doge questa dimostra l'incertezza siamo anche qua come sull'euro dollaro vedete non c'è forza nella partenza del ciclo andiamo adesso a vedere i nostri indici partiamo con l'indice delle commodity vedete che l'indice delle commodity ormai anche qui siamo fermi vedete che siamo ancora una fase di short vedete che non riesce a partire vedete che ha fatto sì una candela positiva per momento anche qua al momento sulle commodity c'è tanta incertezza il vix vix che avevo detto che poteva toccare quel 16 34 che ha toccato per la terza volta vedete che ha fatto un'altra candela negativa vi avevo detto che finché non rompe quel 23 questo è un dato molto importante vedete che siamo ancora una fase short vedete che le medie sono tutte rivolte verso il basso c'è l'incrocio e vedete che al momento non c'è forza per una ripartenza prima rimane short poi andiamo a vedere adesso il down il dx prima dx che io ho dato poteva andare a 99 invece vedete che ha fatto una candela positiva seconda candela consecutiva però vedete che siamo ancora una fase di short penso che il dato importante sarà quando romperai 106 per momento anche qua aspettiamo di vedere cosa succede per momento rimango ancora con incertezza il down jones ha fatto sì una candela positiva questa settimana però rotto vedete il minimo della candela precedente c'è la media 50 che viene toccata siamo ancora sì in una fase da vedo siamo solo la media 200 cioè vuol dire siamo ancora fatti di alzo però vedete che quel 34 283 non viene rotto per momento vedete che anche qui tanta incertezza bisognerà vedere cosa succederà con il non fa però del mese di maggio a giugno il sp500 vedete che stiamo andando a questo 4.200 vedete che qui ha toccato questo massimo del 30 gennaio del 2023 della settimana di 2023 vedete che anche qua rischia che se rompe potrebbe andare a prendere quel 4325 vedete che c'è l'incrocio vedete attenzione siamo in una fase di rialzo potrebbe l'SP veramente andare a prendere quello vado a spostare questo 4326 attenzione perché se toccherà il massimo fatto a corso del 2022 qua dopo si andrà ai prossimi tagli a 4.600 attenzione per momento bisogna vedere come si comporterà mentre però che non ha chiuso sopra la resistenza starei molto attento su questo massimo attenzione a questo pullback vedremo cosa succederà il DAX il DAX vedete che come dicevi 16.285 ha fatto il pullback a sui massimi del dicembre 2021 cioè dopo due anni che è ritornato su questi massimi vedete che posso anche spostarlo su qui perché ce n'era stato uno qui nel novembre 2021 attenzione attenzione perché guardate attenzione attentivamente cosa sta succedendo allora qui dobbiamo fare attenzione monitorarlo perché il nostro DAX potrebbe andare a fare nuovi massimi vedete attenzione guardate come questa media 21 e 1250 come sono rivolte verso l'alto e qui mi aspetto ancora una salita sul nostro DAX c'è grande forza poi il MIB MIB invece a contrario del DAX vediamo vedere e come potete vedere il MIB vedete che i massimi per momento di del mese di gennaio 2022 si è fatto una candela positiva però vedete come a differenza del DAX sul c'è siamo ancora sotto una fase di long vedete che anche qui per momento questo lo possiamo togliere il cerchio vedete che anche qui sì siamo in una fase di long perché c'è lì siamo in croce sono 250 però non c'è quella forza che potete averte constatato sul nostro DAX il ratio andiamo a vedere il ratio cosa è successo sul ratio e il ratio vedete che questa settimana vedete come l'azionario ha preso forza sul gold però vedete che siamo sempre sotto la media 200 c'è ancora l'incrocio per me rimane ancora il gold più forte dell'azionario staremo a vedere che cosa succederà nella settimana entrate nelle commodity andiamo a vedere che coefficiente delle commodity partiamo dal gold come vi dicevo si è fermato 2073 vedete che ha fatto una seconda candela negativa però comunque comunque rimane ancora long perché siamo sopra c'è ancora l'incrocio vedremo queste sono delle correzioni vedremo che cosa succederà se dovesse rompere questo minimo vedremo il minimo fatto registrare qui nella settimana che andava dal marzo 2023 vedremo se romperà questo questa questo supporto se rompe questo supporto allora potrebbe andare anche a 1865 però al momento aspettiamo di vedere cosa succede qui siamo in una fase diciamo di accumulo vedete che è laterale al momento qui bisogna aspettare vedere cosa succede poi andiamo a vedere adesso il petrolio che potete vedere voi stessi fatto una candela positiva però vedete che anche qui rimaniamo sempre sullo short per il momento la media 200 sta facendo da supporto per il momento anche qui aspettiamo non ci sono le condizioni di entrare vedete che siamo da dicembre 2022 siamo in una fase che sarebbe di accumulo finché non rompe gli 88 rimane ancora tutto short il nostro platino un platino che niente da fare dopo aver fatto toccato a più riprese quel 1128 niente fatto la candela positiva però rimane ancora sopra la media 200 staremo come si comporterà per il momento dell'abri il platino non sta facendo non quello che dovrebbe fare non vuole partire permette si aspetta poi il copper copper che inizia da fare anche lui dopo aver fatto uno due tre quattro cadele rosse si è fermato su questo supporto dinamico siamo ancora sulla fase long vedremo cosci di danno prometto non ci sono quelle condizioni di entrare e andiamo a vedere l'ora in giùs che l'ora in giùs ha recuperato qualche cosa dopo queste questa grande candela negativa si è fermato comunque il tratto rimane comunque sempre log e andiamo a terminare la nostra carrellata con il cripto e vedete che ethereum questa settimana gli da fare anche qui tanta incertezza e vedete che anche il bitcoin per momento non riesce a partire io vi auguro ancora una buonanotte a tutti voi vi auguro ancora un buon weekend a voi le vostre famiglie ci sentiamo martedì ciao a tutti